Alghero sceglie di adottare l'Art Bonus, il provvedimento governativo introdotto dal Ministro per i beni culturali Dario Franceschini, per il finanziamento di opere pubbliche attraverso donazioni private alle quali si applicano detrazioni fiscali. Finora in Italia il progetto ha portato 131 milioni di euro, grazie al contributo di oltre 3.500 mecenati. Il Teatro Reggio a Torino, l'Orologio della Torre di Mantova, il Teatro La Finisce di Venezia, l'Arena di Verona, sono solo alcuni esempi di opere finanziate con l'Art Bonus. Per questo la Giunta Comunale guidata da Mario Bruno ha approvato nei giorni scorsi la definizione delle modalità operative con le quali verrà attuato ad Alghero l'importante provvedimento, su proposta dell'Assessora alla Cultura, Gabriele Esposito. Nei prossimi mesi, in corsa per l'Art Bonus, ci saranno alcuni degli edifici pubblici più prestigiosi della città di Alghero, il Teatro Civico, la Scuola Elementare del Sacro Cuore, i Bastioni. L'amministrazione, spiega l'Assessora, è impegnata a incoraggiare e valorizzare attraverso la propria capacità progettuale e attraverso la collaborazione preziosa di cittadini e imprese il valore della cultura come elemento fondamentale sia per la coesione sociale che per la crescita economica e lo sviluppo turistico. Sono stati anche fissati i finanziamenti necessari alle opere, 340.000 euro per il Teatro Civico, 230.000 euro per il Sacro Cuore, 450.000 per gli affacci a mare nella perimetrazione del centro storico. Il bando di partecipazione, che sarà pubblicato a breve, è aperto a cittadini e imprese che vogliano beneficiare dell'Art Bonus.